Una folla di amici e conoscenti ha tributato l'ultimo saluto a Giuseppe Graniglia, conosciuto da tutti con affetto come Peppino, nella chiesetta della concattedrale di Taranto. La cerimonia, celebrata dalla parroco Don Ciro Alabrese, si è svolta davanti ai banchi gremiti dai rappresentanti del mondo dello sport, da tanti colleghi farmacisti e soprattutto da tutti coloro che hanno voluto bene a Graniglia. Un uomo sempre pronto a fare del bene, al di là delle etichette dei luoghi comuni. Peppino Graniglia se n'è andato a 84 anni, da sempre protagonista in ambito sportivo, è stato prima dirigente del circolo tennis Taranto, presidente della delegazione provinciale della Fedartennis e poi presidente del Coni Ionico dal 2001 al 2017, quando è stato insignito dal presidente Malagò della Stella d'Oro al merito sportivo, di cui era tanto orgoglioso. Non si è mai distaccato dai campi di gioco, ha continuato a frequentarli da presidente merito, oltre a svolgere quasi fino all'ultimo la professione di farmacista. Amatissimo da tutti i pazienti, sempre gentile e pronto ad aiutare il prossimo. Presente anche Michelangelo Giusti, che lo ha sostituito alla guida del Coni Tarantino, ai vertici regionali e provinciali di sport e salute, Francesco Toscano e Luca Balasco. Un lungo applauso ha salutato l'ultimo viaggio di Graniglia. Taranto non lo dimenticherà.